Eccoci alla fine di Sarzana contro Rotellistica Camaiore, partita combattutissima qui la seconda giornata di Coppa Italia della Serie A2. Primo tempo che è terminato con un 1-0 nonostante le tantissime occasioni di entrambe le squadre, grandissimi interventi dei due portieri ma anche dei giocatori di movimento, tiri da ovunque, da vicino, da lontano, pericolosissimi. Partita che termina 4-3 per gli ospiti Rotellistica Camaiore, hanno dimostrato lucidità, serietà, una grande mentalità della squadra che si porta quindi a 6 punti. Qual è il tuo commento sulla partita? Siamo con Bruno Alonso. Ciao, buonasera a tutti. Prima che niente. No, la verità è che è stata una partita dura, combattuta e il primo tempo noi siamo stati un po' così anche perché siamo entrati nel gioco con l'arbitro ma niente, alla fine, secondo tempo siamo entrati un po' più tranquilli, diciamo così, siamo concentrati in quello che dovevamo fare. Ma faccio complimenti al Sarsana che ha giocato molto bene e niente, ringrazio a tutti i miei compagni, tutti che grazie a Dio l'abbiamo portato avanti. Si, si porta avanti la squadra, il progetto della squadra che appunto, come diciamo, come abbiamo detto, 6 punti in 2 partite, 2 vittorie su 2, non facile neanche quella col Pumas-Biareggio sicuramente. No, no, non è stato neanche facile con il Pumas. È vero che siamo una squadra magari, diciamo così, nuova e anche con giocatori bravi ma tutte le partite sono difficili e niente, questo siamo noi, sono contento per rimanere qua un altro anno con il Camaiore e niente. Ma sì, dobbiamo continuare così, con la testa alta e andare giù.